A 16-17 anni faceva già apnea di oltre due minuti, pensavo che lui l'avrebbe fatte di quattro e invece le faceva tra i 30 secondi e massimo 55 secondi. Quindi io lì capì che il concetto di pesca è legato alla cattura del pesce, al tempo di apnea. Questa è la prima cosa. Qua scoperchiamo un vaso di Pandora. Gabriele Del Bene, un altro lupo di mare, un altro lupo di pesca in apnea. Non è stato facile raggiungerti, devo dire che ti sei fatto inseguire anche tu un pochettino. Piacere di conoscerti. Quanti anni hai intanto? Allora, a novembre ne compio 56. Ok, è così, giusto per dare una chicca. Se non sbaglio tu detieni un record di pesca subacquea inerente alla profondità, è corretto? Sì, ho pescato abbastanza regolarmente oltre i 60 metri in maniera ufficiosa e in un certo caso ho voluto dare un po' un vestito di ufficialità facendo questa impresa sportiva della cattura più profonda della storia della pesca subacquea. Ho pescato ufficialmente durante un tentativo di questa impresa a 62,4. Allora, la domanda mi sorge spontanea, ma che benefici ci sono del pescare in maniera così profonda? Nelle ultime puntate si discuteva del fatto che è comunque una scelta pericolosa e che inevitabilmente, specialmente quando queste gesta vengono, RS mainstream vengono pubblicate, possono essere oggettivamente delle operazioni pericolose, però a me piace ascoltare un po' tutti i pareri per poi farmi la mia idea. Il pesce ha quelle profondità? Com'è? Allora, il pesce ha quelle profondità, al contrario di quello che viene spesso affermato o letto, non si comporta in maniera molto diversa da profondità minori. L'unica cosa che a quelle profondità, diciamo che in genere queste cose si fanno su dei relitti, che concentrano, che è un po' il concetto dell'oasi, l'oasi nel deserto concentra la vita. La cosa che toglie un po' di difficoltà è il fatto che in questi posti, a queste profondità, i pesci sono più abbondanti e generalmente di taglia maggiore, ma il loro comportamento non è dissimile da quello che si può trovare su un cappello di una secca a 25 metri, ecco, più o meno è quello. Ok, direi, cioè mi sento di dire, correggimi se sbaglio, che inevitabilmente sarà subordinato alla presenza dei subacui, quindi un pesce che non ha mai visto un pescatore subacui in 10 metri avrà lo stesso comportamento che, per esempio, avrà 60 metri. Diciamo dalla pressione specifica, dalla pressione specifica che viene esercitata nel posto. Ad esempio, io molto spesso mi sono ritrovato su dei branchi di dentici, su dei relitti tra i 55 e i 65 metri, molto, molto diffidenti, molto nervosi perché questi relitti venivano visitati regolarmente con le bombole o qualche volta di notte da pescatore con le bombole, ecco. Ok, torniamo un attimo alla tua persona. Gabriele Del Bene, di cosa ti occupi nella vita di tutti i giorni quando non sei in acqua? Allora, io sono un dottore in osteopatia, quindi diciamo mi occupo prevalentemente di questo, però negli ultimi anni, siccome il sogno della mia vita è di fare un lavoro che mi faccia alzare un'ora prima della sveglia, e insomma un lavoro con cui avere sempre tanta voglia di fare, tanta passione, è di fare l'istruttore di pesca subacquea. Quindi ora, già da tempo organizzo dei seminari, cioè diciamo mi è sempre piaciuto, come dire, il concetto di libertà, e quindi il fatto di lavorare, di essere in studio, di sapere che nel successivo mese ci sono già quattro settimane con gli appuntamenti fissati, mi è un po' pesante alla mia età, nel senso che voglio essere quello che sono e quindi mi sento più libero a lavorare in mare, a fare quello che mi piace. Quindi sto cercando di virare sempre di più la mia professione sull'insegnamento, l'insegnamento della pesca in apnea, del perfezionamento dell'apnea in funzione della pesca subacquea. Attualmente sto facendo dei seminari qui in Mediterraneo, all'isola d'Elba, fino a luglio-agosto ancora lavorerò qui in Italia, a Mediterraneo, e ora sono in procinto di cominciare a lavorare all'estero. L'Africa è sempre stato un teatro che mi ha sempre affascinato, sono tanti anni che viaggio in giro per il mondo per trovare un sito adatto per aprire un centro di pesca dove sia possibile fare questo tipo di attività e l'ho trovato in Capoverde. Per cui ora sto organizzando tutto e dovrei essere operativo dal mese di ottobre. Ok, allora questa è una cosa su cui mi rivedo tantissimo. abbiamo due età differenti, però suppongo che alla base ci siano le stesse preoccupazioni. Come oggettivamente stai provando a virare questo? Perché alla base ci vuole un sostentamento economico per garantirti un minimo di vita standard. Ecco, come pensi di abbandonare la tua professione che fino ad oggi ti ha sostentato e virare verso una grande incognita, che è quella della pesca? Diciamo che ho fatto una specie di micro test di mercato e quindi ho visto che ci sono i numeri dal punto di vista finanziario o avere delle entrate che giustifichino un'impresa di questo genere. Poi chiaramente alla fine io tendo sempre a pensare al lavoro come qualità della vita piuttosto che insomma bisogna vivere, lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Ecco, questo è il concetto che forse può essere la madre di tutto. Assolutamente, ma guarda che siamo, l'altro giorno leggevo, non mi ricordo dove, della famosa rat race, la corsa dei topi, dove in maniera analoga veniva descritta la società che ci si sveglia e come tanti topini si comincia a lavorare dalla mattina alla sera e si muove questo sistema che succhia il tempo della nostra vita per questo sistema capitalistico che è profitto, profitto, lavoro, tempo, profitto. E noi ci annulliamo quasi. Sicuramente questa è una scelta incredibilmente coraggiosa. Mi sento di dirti e lasciami dire, soprattutto anche alla tua età, sicuramente, dico, è una vita che lavori, sono più che convinto che avrai le spalle coperte e quant'altro, ma l'idea di buttarsi in acqua e andare a cacciare del pesce e monetizzare questa tipologia di esperienza che è totalmente un'incognita, peraltro in Africa, a Capoverde, posto bellissimo, dove sono stato anche io. Cazzo, ci vogliono due maroni così. Ci vuole un po' di coraggio, diciamo, forse anche un po' di inconscienza, però io preferisco definirlo coraggio, ecco. Come personalmente hai vissuto questa tua esperienza lavorativa da osteopata? Cioè, come ci sei arrivato? Quando è che ti è maturato questo pensiero in testa di voler cambiare? Dici arrivare a fare l'osteopata? E poi decidere di come stai facendo adesso cambiare? Allora, diciamo, io mi sono sempre interessato allo sport, quindi ho preso la prima laurea breve in scienze motorie nel 90, nel lontano 90. Dopodiché, diciamo, il mio percorso professionale è passato attraverso, avevo fatto il militare, dopo aver finito il militare sono stato una settimana a casa che non sapevo che fare e poi ho fatto un corso di comunicazione della Folletto, della Spirapol, la famosa Spirapol. E l'ho fatto poi, questo lavoro, per due anni, perché era contenta mia madre, era contenta la mia fidanzata dall'epoca, perché uscivo di giacca e cravatta la mattina alle 8 di casa e rientravo la sera alle 8. L'unico che non era contento ero io. E quindi, dopo un paio d'anni di questa vita qua, cioè, diciamo, era una vita anche, come dire, dal punto di vista finanziario, molto interessante, perché guadagnavo tantissimo, perché ho scoperto di essere anche bravo a vendere gli aspirapolveri porta a porta. Però dopo un paio d'anni non ce l'ho più fatto, ho preferito ritornare al mio vecchio amore, e quindi ho ricominciato a fare l'atleta professionista. All'epoca mi avevano messo a capo della squadra agonistica della Mares, con la quale ho collaborato come consulente per 11 anni, poi ho lavorato con SEAC, e poi quindi ho continuato sempre, diciamo, la storia del consulente e dell'atleta, ecco, dell'atleta sponsorizzato. Poi a un certo punto si erano fatti i 38 anni, ho pensato di, siccome mi piaceva la medicina, insomma, l'anatomia, eccetera, mi interessava questa branca della medicina, la medicina manuale, quindi l'osteopatia manuale. Sono andato per cinque anni in Svizzera a fare queste lezioni che alla fine mi impegnavano, fortunatamente solo l'inverso, ma cominciavo a studiare in fine settembre, finivo in aprile, in aprile, ecco, aprile maggio, così. Quindi da giugno in avanti avevo l'estate poi libera per fare le mie attività, ecco, quindi alla fine sono arrivato lì. Poi dopo, te l'ho detto, insomma, diciamo, ho pensato di, mi sento più libero, mi sento più libero nel lavorare in acqua, in mare, nonostante l'età, poi gli acciacchi anche, che sono, ho dolori dovunque, perché poi, insomma, avendo fatto tanta preparazione atletica, in passato, c'ho tutto rotto, tutto rotto, tutto... Ma guarda, questa è una cosa che io sto sentendo di recente sempre più spesso rispetto a, come dire, i lati negativi di certe popolazioni atletiche e come atleti comunque di un certo livello poi nel tempo cominciano a risentire del loro lavoro fisico, laddove invece io pensavo che, come si dice, un corpo comunque allenato, in forma, che si allena regolarmente, probabilmente non a quei livelli, però comunque tende a essere più sano, a rimanere più sano nell'arco della vita. Però intanto è abbastanza comune questo feedback. Cosa mi dici in merito? Beh, cioè, per quanto riguarda me, ti posso dire che, insomma, io sono il prodotto di decine di migliaia di ore fatte anche al freddo, a tanto, tanto freddo, e poi tanto mare mosso, perché io, diciamo, per esempio in Liguria, qua dove abito, in mare ci vado solamente quando ci sono delle condizioni meteo che innescano un po' la catena alimentare nel sottocosta, per cui pesco tantissimo tra 0 e 5 metri di profondità, e quindi c'è questa onda simile oceanica che comunque fa sì che le navigazioni siano piuttosto impegnative, molto dure, quindi la colonna vertebrale soffre tantissimo. Io sono pieno di protrusioni, erni, sono stato operato di due erni al disco, insomma, diciamo che alla fine sto molto bene in acqua, sono un disastro a terra, però nell'acqua, insomma, il fatto che poi sono un uomo imponente, perché peso quasi un quintale, sono un metro e 95, nell'acqua praticamente ritorno un po' questo si annulla, insomma, il mammifero marino. Questo si annulla. Allora, la domanda mi viene spontanea, intanto quanto spesso vai al mare, considerato comunque anche il tuo lavoro? Dunque, ultimamente parecchio d'estate vado almeno tre volte alla settimana, quindi diciamo di grosso modo da maggio fino in ottobre vado tre volte alla settimana, e poi l'inverno almeno una volta o insomma quando il tempo lo concede, ecco. Ok. Io ho visto su Facebook che è pieno di tue fotografie con tanti i tuoi allievi e la domanda mi sorge spontanea. Cacchio, ma un allievo che prende certi pesci, dimmi qualche trucco, dammi qualche indicazione. Come funziona una giornata tipo di pesca e come arrivi a questi risultati nelle giornate? Cosa c'è che mi sto perdendo? C'è che ti stai perdendo che diciamo che mentre la formazione diciamo della Pnea è molto strutturata ed è molto, come dire, percepita come virtuosa, la formazione della pesca subacquea è quasi ed esclusivamente teorica. O meglio, anche quando viene fatta in pratica bisogna vedere come viene fatta. Ecco, io ho impostato i seminari che faccio sulla qualità dell'insegnamento per cui, diciamo, c'è un percorso formativo che è piuttosto impegnativo perché sono il format di tre giorni. Ok. Spesso serve a mettere a fuoco per l'allievo banalmente un metodo per, avere un metodo per ventilare. Ecco, quasi sempre io durante i test d'ingresso che sono quelle cose che faccio senza suggerire niente agli allievi quando vengo vedo subito, immediatamente quali sono gli errori tipici che sono molto, molto comuni e cerco di correggerli. In tre giorni mi sono ritagliato uno spazio, diciamo, pratico e teorico importante e un metodo, soprattutto una metodologia di insegnamento che porta a dei risultati tangibili in maniera immediata soprattutto in funzione della sicurezza cioè io insegno a sviluppare un metodo dedicato propriamente alla pesca subacquea che è molto diversa dalla Pnea questo metodo per la pesca per la ventilazione della pesca subacquea Buono! Scusa! No, figurati! La caratteristica in funzione della sicurezza è il fatto che si possono costantemente monitorare i parametri ed impostarli sulle proprie caratteristiche fisiche e psichiche quindi questo, diciamo, in sostanza io la chiamo per condensare al massimo la regola del 5 cioè alla fine dei tre giorni l'allievo è in grado in sicurezza di avere dei tempi di apnea che gli consentono di aumentare grossomodo magari nel mese successivo nelle 3-4 uscite successive al seminario anche di 5 metri la sua profondità operativa insomma, chiaramente più è basso il livello e più si hanno dei salti importanti Ok, su internet le informazioni volano velocissime e il tuo nome ho quasi sempre visto che è stato associato a questa manovra globale di risalita io non la conosco ho letto qualche cosa ho letto tantissime informazioni positive in merito ma tante negative e alla base perché non la conosci adesso ce la spiegherai tu quello che ho capito è che bisogna tenere il tubo in bocca in fase di discesa e risalita e lì di nuovo da ignorante in materia dico, non è pericoloso nella fase più delicata del tuffo tenere questo tubo in bocca quindi nella fase poco prima di uscire dalla superficie effettuare questo sforzo per svuotare il tubo non lo so suona pericolosa però ho anche letto che in realtà non lo è con dovuti accorgimenti e che chiaramente con una dovuta esperienza e tecnica quindi penso che sia arrivato il momento di chiarire bene le idee in merito quindi spiegami di questo allora dunque la manovra globale di disalità io gli ho dato questo nome però non è che l'ho inventata io io semplicemente ho fotografato l'abitudine di migliaia di agonisti della pesca subacquea che sostanzialmente attraverso un comportamento selezionato a livello darwinistico nel senso si fa una certa cosa che poi ad esempio lo svuotamento facilitato del boccaglio che poi si vede che ci dà un vantaggio e quindi automaticamente si ripete quasi inconsciamente quindi alla fine tutti quelli che la utilizzano non è che ci sono letti il trattato che ho scritto di fisiologia alla manovra globale di disalità semplicemente l'hanno appresa attraverso migliaia di decine di migliaia di tuffi di pesca quotidianamente ecco e il là per idearla per per scriverne è stato il fatto che nell'89 un agonista che faceva con me le gare mi raccontò che era in Grecia e stava trazionando una cernia aveva solo un chilo di zavorra perché aveva una muta molto leggera si rese conto di arrivare vicino alla superficie praticamente in grossa in grossa difficoltà e svenne tipo lui racconta che secondo lui anche 5 metri sott'acqua all'epoca era obbligatorio per la didattica fare un esercizio si chiama la festizione sul fondo in cui bisogna uscire in superficie per dimostrare l'acquaticità svuotando il boccaglio con forza proprio come dicevi tu prima ecco lui chiaramente svuotò con l'espirazione tenendo il boccaglio in bocca svuotò il boccaglio che poi si riempì subito di acqua però con lo slancio arrivò a galleggiare in superficie perché era molto positivo dopo un tempo che è valutabile in certi casi 5 secondi in altri fino a 30 forse di più e il cervello dà un impulso di nuovo alla respirazione fino a quel momento c'è il cosiddetto arresto respiratorio quindi praticamente la glottida si trasforma in un tappo diciamo così il diaframma che è un muscolo a forma diciamo della parte superiore di un pallone quando è in ispirazione volontaria cioè siamo pieni d'aria il diaframma è piuttosto basso ed è stimolato dalle contrazioni diaframmatiche a un certo punto se noi abbiamo questa sincope anossica semplicemente il diaframma si rilassa e sale verso l'alto avendo un piccolo rimbalzo meccanico cioè fa questo lavoro e poi riattrae risucchia la glottide all'interno della cavità e la glottide è rilassata fa un tappo per cui l'obiezione che dicevano alcuni che il boccaglio è una facile via di accesso all'acqua non esiste perché in quel momento lì in quel momento lì diciamo questa sono fisiologie basiche non può passare non può passare perché fino al momento in cui il cervello ridà l'input allora lì sì che in quel momento in questo caso questo agonista nel momento in cui ricevette l'input del cervello di respirare di nuovo tutto riprese e lui prese questa diciamo questa boccata di acqua che poi alla fine diciamo è tipo un bicchiere d'acqua salata che è tra l'altro compatibile abbastanza con le mucose respiratorie insieme a questo bicchiere d'acqua prese centinaia centinaia di litri d'aria che lo riportarono alla coscienza e quindi lui si salvò io poi negli anni ho diciamo mi sono stati riportati altri 23 casi tra cui quello di un mio allievo che si chiama Fulvio Mancaruso che diciamo sono stati di questi 23 24 casi solo uno cioè questo che ho appena raccontato dell'agonista è stato bagnato gli altri 23 che secondo me sono solo la punta dell'iceberg perché non è che fa piacere a tutti raccontare di aver avuto una sincope di aver rischiato insomma la vita potrebbero essere 230 come 2300 ecco per intenderci in questi altri 23 casi sono stati tutti di sincope asciutte cioè cosa è successo a Fulvio in questo caso per esempio lui col boccaglio in bocca la domenica è andato a un matrimonio ha mangiato ha bevuto ha dormito poco ha fatto i primi tuffi un po' profondi che per lui erano normali ha tirato un po' il tuffo perché c'erano i dentici ed è svenuto in superficie però grazie alla manovra cioè allo svuotamento facilitato del boccaglio che adesso devo ancora descrivere comunque si è trovato con il boccaglio vuoto libero dall'aria svenuto a testa in giù galleggiando quando è ripartito lo stimolo fisiologico della rispresa della respirazione lui ha preso tanta aria e si è ripreso da solo a quell'epoca c'aveva c'aveva un mega j di triplo elastico che galleggiava lì a fianco a lui l'ha preso l'ha scaricato e è tornato a casa però mi ha telefonato e mi ha detto subito guarda meno male che mi ha rispiegato come utilizzare il boccaglio perché sennò sarei stato morto cioè senza il boccaglio in bocca è ovvio che l'apneista non ha bisogno del boccaglio perché deve scendere a 70 metri 100 metri e farebbe solo farebbe solo attrito ma nel nostro caso purtroppo anche se io insegno ad esempio a pescare in coppia con un solo fucile carico poi di fatto ci troviamo da soli la manovra la manovra di espirazione facilitata banalmente si effettua così col boccaglio inserito quando si arriva si guarda verso la superficie le prime volte che può essere difficile valutare la distanza a 20-30 cm della superficie si lascia andare il respiro questo lasciare andare il respiro in maniera passiva senza senza lo sforzo espiratorio che descrivevamo poc'anzi fa sì che il boccaglio in quei due decimi di secondo che mancano al contatto con l'aria si svuoti naturalmente finisce l'espirazione una volta che il boccaglio è emerso fuori dall'acqua e quindi in quel caso lì siccome il 95% delle sincope avviene diciamo nell'ultimo da mezzo metro un metro sotto la superficie fino a 10 secondi dopo la riemersione in quel caso lì siamo protetti perché ci troviamo a galleggiare a testa in giù magari anche svenuti però con il boccaglio libero dall'acqua allora Gabri un paio di domande è importante l'inclinazione della testa in fase di immersione per facilitare il flusso dell'acqua in uscita importa non importa no non importa perché io la chiamo la regola della frutta diciamo che c'è una una sovrappressione che si crea per via del blood shift la ricompattimentazione del sangue per cui diciamo che noi a 30 metri abbiamo l'equivalente di un pompelmo dentro di un diciamo di un melone dentro i polmoni a 20 metri un pompelmo a 10 metri un grosso arancio a 0 metri il pugno un mandarino praticamente abbiamo le dimensioni di un mandarino di un pugno che è entrato che è rimasto quel sangue che rimane che non si è ancora riportato negli arti inferiori negli arti superiori è ancora lì ristagna e quindi crea una maggiore una pressione intratoracica maggiore per cui diciamo quest'aria che deve uscire anche passivamente è ancora di più aiutata dalla sovrappressione che si crea per via dell'ancora mancato adeguamento in superficie del blood shift ok altra domanda questo tu lo fai a qualunque batterimetrica o lo puoi fare anche in acqua bassa allora lo puoi fare e lo devi fare anche in acqua bassa perché voi avrete visto anche dei video in cui ci sono stati degli incidenti anche a quote modeste insomma quindi dal punto di vista della sicurezza come prassi operatoria è molto è molto sicuro farlo a tutte le profondità ecco ok nella misura in cui io mi sto immaginando in questo momento in superficie alla bassa sto intuendo che il più delle volte arrivo estremamente tirato perché ho una grossa fame d'aria e qua apro una piccola parentesi ragazzi chi ci sta ascoltando io vi consiglierei come sicuramente anche Gabriele di non automaticamente da domani provare a fare questo bensì di mettervi in contatto con Gabriele e farvi seguire da una persona che sa quello di cui sta parlando e vi può indicare la migliore practice per farlo bene poiché non vogliamo essere responsabili di brutti accadimenti e tornando alla domanda il la domanda mi viene spontanea spesso mi è capitato di in condizioni di mare mosso quando ero un po' corto di fiato di affogare perché o cominciare a tossire perché ho ingoiato acqua perché l'acqua mi è entrata all'interno del tubo nella misura in cui io faccio quest'operazione esco e mi arriva un'onda che mi riempie il boccaio in quel contesto da come stai dicendo tu vero è sì che potrebbe essere pericoloso però sarebbe relazionato soltanto a quel pezzo di acqua che c'è all'interno del tubo è corretto? non ho capito esattamente allora io sto emergendo c'è mare mosso faccio l'operazione ok quindi esco dall'acqua il tubo è vuoto l'operazione è stata effettuata correttamente la manovra è stata effettuata correttamente e mi arriva un'onda che mi riempie il tubo per esempio e io mi affogo nel senso ingerisco acqua a me è capitato spesso specialmente quando sono piombato tanto e sono parzialmente negativo di essere corto di fiato e affogarmi con l'acqua può comportare vabbè il verbo affogare vuol dire proprio scusami scusami hai ragione in termini di queste sono questo è il parlare l'inglese troppe volte quando parlo di affogare è quando bevi un po' di acqua e ti affoghi perché l'acqua arriva nel ok bere esattamente ci può essere una controindicazione nell'effettuare questa manovra in condizioni di mare mosso semplifichiamo la domanda allora diciamo una cosa che prima di tutto io insegno anche nei miei seminari che tutti i miei allievi lo sanno che diciamo l'obiettivo è pescare il pesce non fare lunghe apnee quindi ora c'è molto c'è molto la moda dell'apneista col fucile cioè mostro su youtube che ho fatto l'apnea di 2.35 e ho preso il pesce molto molto profondo ok sono tutte cose che sono alla portata di alcune persone particolarmente dotate ed allenate però non deve essere diciamo la guida didattica ecco io durante le gare con mio sommo stupore la prima gara di altissimo livello che seguivi di Amengual fare dell'apnea in un posto dove io a 16-17 anni facevo già l'apnea di oltre 2 minuti pensavo che lui l'avrebbe fatte di 4 e invece le faceva tra i 30 secondi e massimo 55 secondi ecco quindi io lì capì che diciamo il concetto di pesca è legato alla cattura del pesce al tempo di apnea ecco questa è la prima cosa qua scoperchiamo un vaso di Pandora perché perdonami se ti interrompo sembra esserci nell'ultimo decennio la propensione più lunga è l'apnea più io posso prendere pesce tu qua chiaramente stai dicendo no ragazzi l'apnea è l'apnea il pesce è il pesce è chiaro che può aiutare è chiaro che può aiutare però diciamo il pesce oggettivamente si è molto ridotto è diventato più smaliziato però quello che fa la differenza è più la tecnica che non il tempo di apnea cioè ci sono dei grandissimi apneisti che non prenderebbero un pesce manco se glielo fai vedere glielo metti sulla punta dell'arpione ecco quindi diciamo che l'apnea aiuta ma il grosso della capacità di aumentare il livello degli avvistamenti degli avvicinamenti e di concludere con delle catture dipende dalla tecnica di pesca e non dal tempo di apnea secondo te perché c'è una maggiore diffusione dei corsi di apnea rispetto che ai corsi di pesca subacquea eh beh perché diciamo che la pesca subacquea purtroppo viene percepita come un'attività altamente impattante sull'ambiente e quindi diciamo guarda anche nel nostro settore giusto per portarti un esempio io ho una piccola community di pescatori subacquei e chiaramente ogni volta si parla di migliorare le performance e soprattutto la sicurezza del mare viene consigliato il corso di eh di apnea ma io sento pochissimo parlare di corsi di pesca subacquea io feci un corso di pesca subacquea per un brevetto agonistico dove vennero affrontate tantissime tematiche soprattutto di sicurezza ma bensì molto di più rispetto alla pesca io mi riferivo non in generale a un pubblico che può essere ehm pescatore o non pescatore io ti parlo proprio della nostra nicchia dei pescatori si parla più almeno o questa percezione di corsi di apnea piuttosto che corsi di pesca subacquea ma ehm il corso di pesca subacquea eh te l'ho detto diciamo viene facile farlo in teoria e e il corso di apnea viene fatto sia in teoria che in pratica in piscina per esempio il corso di pesca subacquea in piscina sì si può fare qualcosa però poi va fatto in mare infatti io diciamo alla fine lavoro tanto con i corsi di pesca subacquea ho creato questo format di pesca subacquea di seminario che dura tre giorni eh di pratica di pesca subacquea in mare e insomma vengono da me sono tutti fidelizzati vengono per per curiosità e capiscono che li aiuta tantissimo e vengono una seconda terza quarta qualcuno diventa poi una presenza fissa ogni anno questo è dovuto al fatto che non è non è un lavoro semplice perché stare cioè intanto si può fare a pochissime persone per volta mentre un corso di apnea lo puoi fare a 30 in contemporanea perché è prevalentemente teorico la pratica si può fare anche in una piscina con 30 persone la pratica di pesca subacquea necessita diciamo un lavoro più individualizzato e di qualità insomma diciamo si possono seguire al massimo due coppie in contemporanea una pesca e l'altra viene viene seguita con la telecamera e istruita quindi questo diciamo rende anche i corsi i corsi che si fanno generalmente di pesca subacquea sono quelli come hai seguito tu dove ci sono tante tematiche al fuoco però poi alla fine sono molto basici per avere qualcosa di concreto di più impattante sul livello di qualità degli avvistamenti e degli avvicinamenti delle catture bisogna per forza di cose fare una cosa pratica io ti dico ho fatto tutti i corsi anche nella mia professione che mi capitavano per cercare di crescere nelle mie competenze e non si smette mai di imparare però sembra che nella pesca subacquea si sentano un po' tutti già imparati diciamo così ma guarda dice una cosa verissima mi ricordo che in quel corso che feci tantissimi anni fa eravamo in otto e addirittura uscimmo in otto nel gommone e riducendolo così all'esiguo non me ne voglia colui che mi ha seguito quel giorno si è tradotto molto nel ok gps qua ci sono dei pesci scendiamo prendo il pesce finito bene bravo bello da vedere ok e io come faccio a trovare i pesci e io come faccio a determinare che una zona è più interessante di un'altra è chiaro che questi sono argomenti che come dici tu non basta probabilmente soltanto una sessione ma negli anni piano piano si assorbe si assorbe poi si comincia a essere quanto più regolari possibili con le catture allora qui mi viene una domanda Gabriele so che queste sono domande difficili a cui rispondere tuttavia se mi volessi emergere in un unico punto quella che è la prima cosa da migliorare slash cambiare per cominciare ad aumentare la quantità di avvistamenti di un pescatore cosa ti sentiresti di condividere con me un unico punto quella cosa che dici ragazzi partiamo da questo per vedere più pesci per vedere più pesci bisogna mettere in pratica la regola delle tre o ok la regola delle tre o che è diciamo è un po' è quello che io ho cercato di dare questo io l'ho fatto sempre ecco io come tutti i pescatori evoluti lo fanno in automatico io ho cercato un po' di dargli una definizione che potesse essere poi anche un po' tracciante e didattica fantastico la regola delle tre io parlo anche della teoria del movimento mimetico cioè non parlo di agguato non parlo di aspetto non parlo di pesca entana io parlo del movimento mimetico cioè essendo il pesce molto rarefatto e molto guardingo bisogna essere in grado di preparare bene il tuffo ma poi mettere in atto un comportamento per riuscire ad avvistare non spaventarlo e riuscire ad avvistarlo questo sembra una banalità ma bisogna innanzitutto anche la regola del tre la prima O sta per osservazione e valutazione cioè bisogna raccogliere una serie di dati prima di fare il tuffo il primo dato è la conformazione del fondale dobbiamo cercare il fondale adatto il fondale adatto ad esempio classico è una catasta di massi in una zona dove c'è roccia dove c'è la catasta di massi che fa un po' di tanning crea un po' di habitat è un punto ideale dove fare ideale non sempre comunque è un punto interessante per impostare un tuffo se poi c'è sia la presenza di mangianza di roccia cioè i classici pretini le castagnole che è la presenza terzo indizio della mangianza pelagica cioè occhiate tantelle boghe zerrimero eccetera eccetera che è la presenza di qualche piccolo pesce di taglia piccola tipo dei saraghi fasciati dei saraghi marcioli sottopese eccetera diciamo si alza la percentuale di possibilità di di cattura quindi diciamo fare il tuffo banalmente dove ci sono i pesci dove c'è un habitat che consente perfetto al pesce di essere presente di alimentarsi di nascondersi di girare per conto suo i posti che gli piacciono seconda seconda o la seconda o sta per organizzazione del percorso cioè un esempio tipico adesso mi viene in mente un un seminarista un ragazzo che supponiamo questa sempre sulla sulla franata che mi piace perché mi riesco a empatizzare perfettamente supponiamo che noi abbiamo questa franata di massi che finisce sul fango non lo so di questa costa a falesia sono in superficie dove intanto mi ventilo allora intanto mi ventilo intanto non esattamente ad esempio acqua limpida quindi riesco già dalla superficie a vedere che c'è un sasso più interessante degli altri cosa vuol dire più interessante degli altri ad esempio che mi fa intravedere già dalla superficie che c'è una feritoia una fessura una tana che può essere da queste dimensioni non so se si vedono le mani fino a queste ok diciamo in dimensioni in tane che sono che possono essere orizzontali verticali oblique però quindi dai 20 dai 20 cm dai 15 cm fino ai 25 diciamo in questa fascia diciamo di fessurazione può abitare di tutto dal sarago alla cernia alla mostella eccetera quindi favorisce l'abita di tana se la tana è già tipo 50 70 cm potrebbe essere più una tana di passaggio non una tana stanziale per cui le tane stanziali sono caratterizzate adesso grosso modo diciamo da da una grandezza che va dai 15 ai 25 cm quindi noi vediamo che su questo sasso intuiamo che c'è una conformazione di quel tipo quindi faremo il tuffo su questo sasso il tuffo viene organizzato a tappe fino a tre tappe possono essere di avvistamento la prima tappa è quella più facilmente organizzabile e le altre sono diciamo da inventarsi diciamo così la prima tappa naturalmente se io vado sulla verticale del sasso e ci faccio esattamente la capovolta sopra e arrivo sulla verticale del sasso o su un lato di esso e in pratica avrò già messo in atto un comportamento molto disturbante cioè avrò emesso onde sonore ma anche sarò stato banalmente visto dall'animale che magari si trovava subito dietro al sasso o nei paraggi quindi affronterò il sasso organizzando un percorso che mi consenta di avvicinarlo fondo su fondo quindi farò la capovolta con un certo senso della posizione magari a un diciamo 5-6 metri di distanza raggiungerò il fondo 5-6 metri prima a una velocità che può essere anche aggressiva i primi 3 metri ma molto molto leggera molto molto rallentata in prossimità dell'ostacolo creerò una situazione di avvistamento importante perché se arrivo in questa zona con queste modalità non sarò stato né visto né sentito molto probabilmente ti faccio io una domanda a te immaginiamo poi arrivato sull'angolo del sasso creerò una situazione di avvistamento con il capo guarderò diciamo senza fare scatti improvvisi però diciamo guarderò in tutte le direzioni nella fascia della mangianza e a contatto con il terreno per un paio di volte il tutto prenderà quei 6-10 secondi se a quel punto non avremo visto nulla di interessante la mangianza è tranquilla eccetera eccetera e magari c'è un altro sasso poco distante cercheremo di creare un'altra occasione di avvistamento portandoci nella seconda tappa la domanda che ti voglio fare è questa se ipoteticamente ho il fiato per fare a basse profondità ad esempio dove sono in pieno comfort eccetera riesco a fare agevolmente tre tappe di avvistamento secondo te quale potrebbe essere la tappa la prossima la prossima in che senso la prima la seconda la prima la seconda o la terza tappa diciamo di tre aspetta ripeti la domanda dopo che io sono arrivato sul fondo cosa io arrivo sul fondo riesco a fare una prima tappa diciamo faccio 50 tuffi e in 50 tuffi riesco a fare ogni volta tre tappe quindi faccio 150 tappe diciamo ok statisticamente secondo te qual è la la tappa più catturante la prima la seconda o la terza allora secondo me è la terza vediamo se vediamo ti do la mia interpretazione la prima tappa per come lo sto capendo io per come sto per come sto visualizzandogli il tuffo è il primo approccio al fondo con l'occhio alla tana che ho avvistato dalla superficie quindi se da potenzialmente avrei potuto vedere del pesce che stazionava davanti la tana interessante perché avrei potuto concludere la cattura nella prima tappa esatto nella nel secondo approccio se c'è qualcosa dentro la tana che io non ho visto potenzialmente con il primo aspetto nella prima fase potrebbe uscire fuori e potrei concludere una cattura in quel momento secondo me la tappa più catturante è l'approccio vero e proprio alla tana poiché se la tana non è passante e c'è qualcosa che da dentro non è uscito io già sto cercando con la mano la torcia per approcciarmi e vedere se riesco a concludere il tiro in tana se ho incuriosito il pesce durante l'avvicinamento alla tana magari scatta fuori tiro magari si affaccia tiro e se questo non dovesse accadere l'approccio finale quindi la prima la seconda o la terza io dico la terza la terza la terza la c per me la c la più catturante quindi l'approccio diretta è molto più semplice di quello che l'hai è un pensiero molto più semplice di quello che hai descritto tu è è la b perché la terza banalmente sei affinefiato quindi non sei più lucido giusto la prima è quella più facilmente organizzabile però è anche quella che disturba di più i pesci perché è quella più vicina alla capovolta quindi di solito il 60 70% delle catture avviene nella seconda tappa che definiresti quindi con che movimenti nel caso di questa tana che abbiamo avvistato nella superficie diciamo il primo il primo movimento è la capovolta raggiungimento del fondo lo strisciare a velocità non aggressiva fino alla prima tappa che è il primo sasso ok ok abbiamo visto 6-10 secondi che non c'è niente in giro non c'è pesce né vicino alla tana né in prossimità che si sta avvicinando mi rimuovo per fare altri 4-5 quello che sarà metri per arrivare a una seconda tappa è questa la tappa arrivando a velocità non aggressiva cazzo quanto è vera sta cosa cioè questo è reverse engineering che figata perché se io penso a tutti i pesci che ho catturato sempre o nella stragrande maggioranza diciamo che io grosso modo direi direi un 60% delle catture avviene se uno fa abitualmente più tappe il 60% delle catture arriva nella seconda nella seconda tappa che è peraltro dove si ci sente meglio come stavi dicendo tu è perché si è ancora lucidi si è ancora ragionati ma guarda un po' che bella questa questa schematizzazione pragmatica della della discesa che figata è la prima volta che sento un approccio del genere veramente tanta roba grazie Gabriel un ottimo spunto per vedi queste sono informazioni di altissimo livello gratuite la terza O la terza O è il sfruttamento dell'ostacolo ostacolo sta per ostacolo l'ostacolo può essere un mammellone d'alga piuttosto che un grosso sasso come l'ideale è un grosso sasso con la fessura che può fare Tana alla base per esempio lo sfruttamento dell'ostacolo bisogna arrivare sul sasso con se siamo destri ad esempio lasciare l'ostacolo quasi a contatto con la spalla sinistra e avere il brazzo destro libero di agire e di creare l'occasione della cattura ecco quando molto spesso un errore tipico dei miei allievi è questo è di tenere il braccio arretrato e di per timore di creare disturbo nell'uscire dal riparo dalla tappa diciamo di avvistamento nel riuscire dalla tappa di avvistamento con il fucile già spianato che invade l'ambiente in realtà se i movimenti sono al super rallentatore al super rallentatore il movimento in se stesso mimetico cioè non viene percepito dall'animale come aggressivo e quindi se si muove con dovizia e attenzione diciamo si può anche sorprendere il pesce ancora quasi incuriosito dall'uscita del fucile in posizione di attacco la posizione di attacco del fucile è diciamo del gomito che sta davanti alla spalla se sta allo stesso livello o all'indietro così succede che sorprenderemo un pesce ma lui ci sorprenderà sempre perché solo portare avanti con questo movimento portare avanti per mettere in linea di tiro l'animale passano quei tre secondi che il pesce attualmente se te ne dà mezzo di secondo siamo siamo grassi stiamo bene stiamo bene con mezzo seconda su una preda quindi potenzialmente allarmata effettuare quest'ultimo movimento nel momento topico è quella cosa che fa scattare il pesce via wow ok minchia vedi a queste cose come si ci arriva nel senso tu hai bisogno secondo me la pesca come anche pochi altri sport e discipline come diceva nicola riolo è uno sport dove l'esperienza gioca tutto cioè non non ci sono cose che tu puoi apprendere così facilmente a meno che non ci sia a qualcuno che te lo dice a b qualcuno che te lo insegna e c tu fai questo percorso ma devi avere una personalità secondo me sì sì quindi praticamente il problema qual è che mentre nell'apnea ci sono quelle cose che si imparano però diciamo un percorso di un apneista evoluto con i metodi didattici che ci sono adesso può durare anche due anni cioè uno da zero in due anni può raggiungere dei risultati importanti nella pesca subacquea no perché ci sono molte più cose da imparare molte più esperienze da fare e molti più comportamenti da conoscere per cui diciamo ma anche banalmente è molto più complicato diciamo il sistema di attivazione mentale che c'è dietro la pesca subacquea e dietro l'apnea è diverso nell'apnea c'è un'introspezione ci si analizza guardandosi dentro cercando minimi dettagli pensieri e sensazioni molto fini che necessitano di una di una profonda dose diciamo di sedativi di ormoni creati dall'ipofisi per addormentarci quasi ecco diciamo analizzarci con tranquillità la pesca subacquea invece collide enormemente con questo mondo dell'apnea perché i tuoi sensi devono essere iper attenti iper allersati molto più i canali ormonali sono più molto più quelli della cetilcolina della granulina cioè diciamo di tutti quegli ormoni che ti mantengono in posizione diciamo di attacco di vigilanza di predazione ecco è una cosa anche arcaica però che si spiega io dico sempre qual è che è il pescatore subacqueo perfetto quello che riesce a essere molto apneista puro durante la ventilazione durante le prime fasi della discesa la capovolta e i primi metri della discesa e poi quello che riesce a essere quando alza la testa tolta dalla posizione di massimo attrito perché è un altro errore tipico tenere la testa in avanti per tutto il tuffo crea delle dispersioni incredibili da quel momento lì poi mettere dentro tutta l'esperienza e la capacità di ragionare sempre in virtù appunto della regola delle tre osservazione valutazione organizzazione del percorso sfruttamento dell'ostacolo Gabri ti piace abbiamo parlato hai parlato di istinto da predatore che secondo me nel tempo si è assopito con tutta la tecnologia che c'è secondo me è una delle cose più belle andare a pescare specialmente in posti che tu non hai mai visitato e avere quel senso di scoperta piuttosto che procedere con la tua imbarcazione vedere il segnale sul gps scendere pescare e cacciare a te come piace più svolgere la pesca sul vacuo e ti affacci ancora a posti nuovi quanto esplori beh certo diciamo che ecco io insomma è proprio questo quello che guida il pescatore almeno che guida sicuramente il piacere anche della scoperta del trovare cose nuove posti nuovi eccetera quindi io sempre sempre preferisco vedere posti nuovi cercare posti nuovi ecco io ogni tanto mi meraviglio che ci sono delle persone che conosco che vanno sempre costantemente nel solito 4 5 pietre punte secche fanno sempre storicamente sempre quei posti lì ecco io penso che sia forse anche una questione caratteriale insomma diciamo devi avere un po' quel gene della avventura forse della scoperta della curiosità ecco ok allora mi piacerebbe concludere questa conversazione con l'esperienza che più di tutte ti ha tolto il fiato e dimmi pure se ti ha lasciato qualcosa nella vita di tutti i giorni se ti è mai capitato qualcosa del genere un incontro ti ha tolto il fiato intendi dire che nella serie che figata io per esempio qui in Inghilterra un delfino dal torbido è venuto a giocare con me io mi sono letteralmente scioccato la vita tu ti è mai capitato qualche cosa di particolarmente intenso in mare che non dimenticherai mai e che ti ha lasciato qualcosa poi nella vita di tutti i giorni sì diciamo che beh sono stati numerosissimi episodi diciamo uno dei più toccanti a livello umano è stato che mi trovavo era al 2000 mi trovavo a Tahiti con la nazionale per il mondiale di pesca subacquea eravamo in preparazione il primo giorno tra l'altro appena usciti insomma troviamo questa questa balena femmina con il cucciolo insomma diciamo ci siamo buttati in acqua precedendola nel suo spostamento e lei procedeva lungo la barriera è venuta verso di noi e io gli sono andato incontro e questa questa balena stiamo parlando di un animale di 18 metri con un piccolo che è piccolo relativamente piccolo di 5 metri si è presa questo piccolo tra le braccia era dal lato che era verso di noi quindi lo ha preso con le pinne pettorali e lo ha spostato dalla parte opposta quindi diciamo proteggendolo ecco quindi vedere l'istinto materno di una di una megattera è sicuramente diciamo suscita delle emozioni che ti fanno sembrare l'animale forse più umano di quello che è in realtà ecco assolutamente assolutamente io penso che questo è un sentimento difficile da combattere ma quasi doveroso rispetto al nostro istinto di cacciatori ti fa ti fa toccare con mano che alla fine dei conti sono animali che come noi vivono una vita è difficile insomma è più delicato come argomento un'altra 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 cosa è che questo centro di pesca che aprirò in ottobre a Capoverdere sarà assolutamente in equilibrio ecocompattibile cioè pesci solo grandi uno al giorno a persona molto grandi pesci dai dai 15 ai tutti tutti i pesi che vuoi perché ci sono margini anche del 2-300 kg diciamo riccioli da 70-80 kg WAU da 40 e rotti però ecco lì si fa veramente la iperselezione c'è una tale abbondanza che ecco diciamo il fatto che noi dobbiamo mettercelo assolutamente il fatto etico dentro però ecco bisogna considerare sempre che noi possiamo scegliere il pesce lo dobbiamo scegliere più grande è possibile aldoulto è riprodotto però non dobbiamo neanche sentirci troppo in colpa perché perché non siamo ultimamente su internet si vedono questi video di migliaia di ombrine dentro il sacco ma quando dico migliaia intendo 3-4-mila 5-mila pesci insieme ecco quando noi in un branco possiamo prendere un esemplare gli altri imparano ecco Gabri mi ha stupito tantissimo di te la tua chiarezza comunicativa mi hai lasciato tanto a cui pensare grazie di aver visto ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti arrivederci e buona continuazione